Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video, sono Nicola, guardo e riusciamo a un nuovo video Ragazzi, allora, sopra io sto avendo un sacco di commenti belli Come quello dello scorso episodio, dello scorso video che era epico Mi ha commentato Josuke Kashigata Il bello, il bello, che allora Sto video di Josuke uccide Darwin Sta avendo una piega leggermente più sbagliata Allora Io sto avendo un sacco di iscritti e un sacco di commenti E cosa portano commenti e iscritti insieme? Commenti idioti Video Bene ragazzi, questo è l'uomo principale Allora, guardate, aspetta Josuke mi ha commentato Robin Damatti Questo è il video Ora guardate Commenti otto Darwin mi dice Something goes wrong with me Che in poche parole vuol dire C'è una cosa che non va con me Vediamo le risposte Porca miseria Allora Sei scemo come il tuo avatar Era una chiesa di battuta L'ha capito l'ironia, sì o no? Sì lo so Questo commento Questo è un commento Da che poi c'è per la vita Era il mio compagno E quindi un commento di Yoda Però Porca di quella troia È una battuta Così da non per far ridere E poi era per provare un green screen Niente di più Niente di meno Era per provare un green screen Ma scherziamo Cioè La prossima volta Va bene All'inizio faceva ridere Ma ora sta davvero esagerando Caccia Grazie